Sono saliti oltre il miliardo, con un aumento di 200 milioni di euro e una crescita del 13%, i ricavi del gruppo Estra nell'esercizio di bilancio 2016, approvato dall'Assemblea dei Soci. L'utile è stato di 15,1 milioni. La crescita di Estra è testimoniata anche da altri numeri. Il margine operativo lordo è salito a 86,6 milioni di euro, più 45%, mentre resta alto, con 61,1 milioni, il volume degli investimenti. Estracom cabla il macrolotto zero, atto finale del cablaggio dai macrolotti industriali di Prato. Nei macrolotti, Estra ha realizzato investimenti per 900 mila euro, con più di 3.000 aziende collegate alla fibra. Si è svolta in piazza Pertini, ad Ancona, la festa dell'energia che con laboratori, sport e giochi ha chiuso il progetto didattico energicamente, che solo nelle marche ha coinvolto 1.300 ragazzi.